Due episodi di bullismo ai danni di due bambini. I fatti sono accaduti a Casa Massima in provincia di Bari, precisamente nella villa comunale del paese. Vittime una bimba disabile di 10 anni e un bambino di 12. Le violenze fisiche e verbali sono state denunciate ai carabinieri e pubblicamente su Facebook da un comitato di cittadini e dal PD di Casa Massima. Secondo quanto riferito da chi ha assistito agli episodi, il ragazzino di 12 anni sarebbe stato picchiato nella villa comunale da un gruppo di 4-5 adolescenti, vittima della seconda aggressione nello stesso giardino pubblico, una bambina disabile di appena 10 anni. La minorenne prima sarebbe stata derisa e avrebbe subito pesanti offese verbali, poi sarebbe stata colpita con alcuni schiaffi. Invitiamo l'amministrazione comunale tutta ad aprire un tavolo tecnico politico dove pianificare un'azione seria di contrasto a questi episodi mafiosi ed intollerabili, ha scritto il PD locale in una nota. Fatti di una gravità assoluta invece il commento del sindaco Giuseppe Nitti. Invito chi sa a denunciare l'accaduto agli organi competenti così da permettere agli inquirenti di acquisire le immagini delle telecamere installate in villa, non c'è da perdere nemmeno un secondo, ha continuato il primo cittadino di Casa Massima, perché certi episodi vanno affrontati condannati e puniti senza alcun indugio.